Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo vlog flash! Allora, importantissimo, importantissimo ragazzi, dovete stare assolutamente sintonizzati perché vi daremo una notizia shock, veramente una notizia bellissima, stupenda e la vedrete stasera nel vlog di mio marito che abbiamo iniziato insieme e appunto lo finiamo insieme perché vi dobbiamo dire una cosa bella che faremo e quindi non perdetevi niente perché ragazzi, ve l'avevo detto che questa è stata caliente, il bello deve ancora arrivare e questo bello è veramente bello, non parlo di bello belluccio parlo di qualcosa di stratosferico, di fantasmagorico veramente e secondo me rimanete scioccati, nessuno di voi se lo aspetta e niente, voglio farvi questo annuncio e appunto una notizia pazzesca, una notizia sconvolgente ma in modo bello, quindi devo trovare un titolo per questo vlog flash vi devo dare una notizia stupenda, vi devo dire qualcosa di troppo bello non lo so, poi vedo quando ve lo carico comunque niente, ci diamo al prossimo video stasera uscirà haul Primark stupendo e sarà un haul pre partenza di vestiti che ho comprato per la nuova vacanza ma mi raccomando state sintonize nei canali perché appunto, allora stasera tolleranno le live sui Dalimberti o un vlog flash, non lo so o un video, non lo so ragazzi perché comunque noi siamo ancora in mood vacanza e quindi non lo so vedremo quello comunque vedete che stava facendo se si fa la live comunque la notifica vi arriva se non vi arriva comunque lo vedete che siamo in live al limite la recuperate poi niente ragazzi, questo vlog flash sta diventando un vlog e non va bene però sono troppo attenta sono felicissima penso che lo sarete anche voi penso di sì penso che anche gli haters, quelli più caproni, ignoranti saranno anche loro contenti perché questa cosa è proprio fantasmagorica bene io vi saluto ciao